C'è quel manico della brocca che si confonde. Nel disegno però vedi proprio deciso, aderisce proprio la bottiglia. Vedi com'è aderisce qua, cioè si congiungono. Sì, quasi però. Che bisogna fare a quel caso? Senz'altro c'è quel triangolino che devi recuperare, che va al triangolino dello sfondo. E voilà, è quello lì. Quella è una pennellata, me l'hai visto da vicino? Non so che è una pennellata, però se tu vieni qua vedi bene che serve a far capire che il manico della brocca è un manico della brocca. Non sta lì messo così, capito? Sì, sì, sì. Ok. Vabbè, poi gli devo dare più rotondità. Ah, ecco, prea, brava. Quell'angolazione di sopra, quella curva, deve essere più morbida, più rilindata. Sì. Quella deve essere più morbida, ma anche a tutto senso, così detto, perché fa un arco. Un arco, sta per rotondarla, ma è tutto senso. Sono stato tranquillo, non è. Solo più arrotondata il manico. Sì, sì, sì. Solo leggermente arrotondata. Sì, perché sta tutto senso. Per il resto, è colomido, proprio bella, bellissima, quell'ombra che hai fatto dietro la bottiglia. Sì, 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 però è proprio bella quello, perché già, anche se un po' l'hai accentuata un po'. Sì, beh, io la trovo molto sfumata, però non ci sta bene. Però ci sta benissimo. Molto bene. Ok, grazie. No, no, no. Ok, bene. No, 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 no. No, no, no.